Spesso in maniera rassicurante per le donne, ma anche molto per gli uomini, si parla di istinto materno e dietro a questo cappello si mettono cose che non esistono, perché la maternità si impara, la maternità all'inizio è un colpo, è una limitazione della propria libertà, allo stesso tempo è un'acquisizione enorme del rapporto con un altro, per cui è una delle esperienze più grandi, che le donne conoscono, anche le donne che non fanno figli sanno che possono avere un altro, dentro il proprio corpo addirittura. Penso che tutti questi temi sono nell'esperienza comune delle donne, ma che nessuno veramente le ha raccontate. È stata un'esperienza travolgente, lo dico da mamma ancora prima che da attrice, proprio perché questo sentimento l'ho provato sulla mia pelle, quando è nato mio figlio gli ho detto dov'è l'istinto materno che pensavo di avere, perché lo vedevo proiettato sui figli degli altri, perché in gravidanza stavo bene. Quando è nato lui mi sono trovata davanti un individuo con cui relazionarmi in maniera assolutamente nuova e nessuno ti insegna ad essere genitore. Quindi per me è stato un film molto intimo, molto duro per certi versi, però ci sono momenti in cui una madre si sente persa e poterlo raccontare finalmente è stato liberatorio. Il film è molto costruito sul non detto, c'erano le montagne, il silenzio era quasi più importante credo delle frasi e quindi c'era stato incontro, difficoltà sul testo, no a parte le mie difficoltà nella balbuzie, quindi che però scompaiono. Il film è molto toccante, a me mi ha molto coinvolto, proprio straziato davvero, quindi però mi dispiace che ci trovi una coppia anomala, me la sposerei subito insomma, capito? È già occupata. che mi fa? Che mi fa? Adcomp whether that's up? Come l'ha sprawillata? Non vale, non vale. Non vale. Non vale. Claudia non vale. Claudia, Claudia! Claudia non vale. Claudia! Crlia? Claudia? Contra! Claudia! Claudia, guardami davvero maête. Claudia, guardami держitazione 2030. Grazie a tutti. Grazie a tutti.